15 arresti, 19 misure interdittive, 83 indagati e 111 perquisizioni. Questo è il bilancio di una maxioperazione della Guardia di Finanza di Prato nei confronti dei titolari e dipendenti di due studi di consulenza, Robby, commercialista, e Rosini, ragioniere. Entrambi con sede a Prato, ma anche a Verona e Mantova per il primo e Pistoia per il secondo. Le accuse formulate nei loro confronti sono di associazione a delinquere, truffa aggravata all'Inps, violazione della normativa sul rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, oltre alle violazioni sulla normativa in materia di immigrazione. Nello specifico, i titolari e alcuni dipendenti, molti di origine cinese, sono accusati di favoreggiamento alla permanenza, tagli illegalmente di un elevato numero di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale, soprattutto cinesi.